Musica Ora ti conto una storia Gli americani sono sbarcati, siamo liberi, liberi! Spasire la sezione! C'è una riunione! La terra ha bisogno darla a chi la lavora! Musica La carriera di Mike Peter lo ha portato da New York alla periferia di Hollywood e dopo sei mesi non è ancora riuscito a dimenticare la sua ex e così il suo migliore amico Trent e tutti i suoi amici cercano di risolvere la sua vita sentimentale Swinger Anno 1968 Nella sperduta periferia di Sydney un insignificante ex detenuto di nome Wally Mellish Ho messo la testa a posto, vedrai Stava per scrivere la sua pagina di storia Veniamo a prenderti Wally! Ho una donna e un bambino qui dentro! Per lo Stato era un po' rilegge Per la gente era un punto di riferimento E per sua moglie era quasi un eroe In un vecchio edificio abbandonato vive un genio di 3000 anni Ora sta per incontrare il suo nuovo padrone Tu perché sei in me? Ora un adolescente che è sempre andato in cerca di guai E i primi tre desideri e me ne vanno! Senti pagliaccio devi aver fumato troppo se pensi di venire qui a darmi odio! Ha ereditato un genio che non vuole togliersi di torno Questa gara non l'ha aperto, ancora non hai visto tutto! Shaquille O'Neal Sin dall'inizio le loro strade si incrociavano Ma sei scemo? Ma il fato li teneva distanti Ieri sera ho fatto sesso come non l'avevo mai fatto in vita mia Perché non ho ancora trovato qualcuno? Solo se il destino Una storia sull'amore E sulle piccole coincidenze della vita Era affascinata dalla morte Kissed, il film tabù dell'anno Sai qual è il primissimo comandamento qua dentro? Non fare mai la spia Vuoi dire che mi hanno fatto? Ecco! Ma qui non è brutto come pensi Sono tutti assassini Erano assassini Adesso sono cambiati Ho qui le nuove caratteristiche delle nuove guardie Mi avete mandato la feccia delle carceri italiane È finito lo spazzo! Non ti scidei! Ma qui succede? Sono in carcere anch'io Te l'ho detto Io quella donna non la conosco Non è vero! Ma qui invece no! Cazzo no! Io invece non meritavo di pulire anche te Sei un filo il gioco! Costruisci il tuo futuro Formazione avanzata alle nuove professioni audiovisive e multimediali Per informazioni dettagliate sui corsi Rivolgersi al promotore Master europeo in gestione di impresa cinematografica e audiovisiva Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!